Buon dio da tutti e benvenuti su Atilab. Esistono due grandi categorie di sistemi fotovoltaici domestici. Gli impianti direttamente connessi alla rete e gli impianti ad isola. Ma quale dei due scegliere? Per far vedere le differenze con il precedente impianto, ho preso il sistema EcoFlow PowerStream, che si compone di due pannelli fotovoltaici da montare sul poggiolo. Ecco quale specifiche riportate sul pannello. Sono da 400 W di potenza nominale, una tensione nominale di 31 V e una corrente nominale di 12,9 A. E qui invece ci sono le condizioni limite, ovvero la tensione di circuito aperto di 37 V e la corrente di cortocircuito di 13,79 A. Questi sono delle bestie di pannelli, infatti hanno anche un fusibile in serie da 25 A. Ci sono i connettori, e anche qui c'è il connettore, e non resta che collegare il tutto. Ho anche preso dei ganci per poter collegare questi pannelli direttamente al balcone e quindi non mi resta che andare ad installare il tutto. Monto il tutto sul poggiolo a lato sud della casa, al posto dell'impianto ad isola casalingo che avevo costruito tempo fa. L'installazione dei pannelli è semplicissima, ma pesano 11 kg ciascuno, quindi meglio comunque essere in due. Grazie ai ganci gommati si appoggiano sulla ringhiera senza rovinarla e si fissano con una fascetta metallica. Già però il giorno dopo mi sono pentito della fascetta, che potrebbe rovinare la ringhiera. Quindi ho messo della spugna presa dall'imballaggio e una cordina come fermo. E in questa posizione il tutto è veramente molto stabile. E passo al cablaggio. Io ho preferito preparare i cavi con connettore MC4 da me, avendo il materiale fornito da RS Pro per il precedente progetto fotovoltaico. RS Pro è un fornitore di materiale elettrico ed elettronico di ottima qualità. Trovate tutte le informazioni in descrizione. I connettori si crimpano ai cavi da 4 mm quadri, adatti a sostenere la corrente di oltre 10 A per pannello. Collegati i cavi ai pannelli, uso degli speciali cavi piatti che mi permettono di superare la porta a finestra, forniti sempre da EcoFlow. Sono da 2 mm quadri e mezzo e sono super piatti così da passare attraverso la guagna della porta senza rovinarla. Una volta dentro casa bisogna collegare il microinverter. Ed eccolo il protagonista del video, il microinverter connesso direttamente alla rete elettrica di casa. Un inverter che incorpora due ingressi MPPT per massimizzare la potenza elettrica generata dai pannelli e convertire la tensione continua in alternata da poter fornire alla rete. A vederlo a prima vista è un bel pezzo di alluminio bello pesante. Potenza massima di 800 Watt, conforme alla regolamentazione sugli impianti domestici del 2021, quindi facile da dichiarare tramite il modulo Arera. Di fatto è un inverter ad onda sinusoidale pura controllato in corrente e sincronizzato con la rete elettrica di casa. I pannelli si collegano tramite apposito connettore e compare subito la luce verde di funzionamento corretto. La presa di 230 V va collegata direttamente all'impianto di casa, da evitare assolutamente l'utilizzo di adattatori o ciabatte multipresa. Collegata anche la presa di rete, la luce verde indica che il sistema sta immettendo energia elettrica in rete. In pratica, in questa configurazione, l'energia proveniente dai pannelli viene direttamente messa nella rete elettrica. Buongiornissimo! Mattina presto, il sole è ancora dietro agli alberi e nonostante ciò i due pannelli mi stanno producendo ben 40 Watt. Quindi già di prima mattina il sistema sta già funzionando. Tramite l'app posso monitorare lo stato del sistema che infatti mostra la potenza generata di 40 Watt totali, che poi aumenta durante il giorno raggiungendo diverse centinaia di Watt. Per verificare che l'inverter non genera i rumori strani o armoniche udibili per chi ha l'orecchio sensibile, ho anche provato il mio impianto stereo con casse acustiche fai da te, che forse alcuni di voi riconoscono. E questo è l'audio originale. Cablaggio sicuramente provvisorio da rivedere, ma penso anche ci sarà da rivedere l'inclinazione dei pannelli perché essendo così verticali non riescono a prendere il 100% della potenza solare che arriva. Siccome i pannelli sono di silicio monocristallino, l'angolo è fondamentale e con il montaggio verticale in una giornata estiva di sole pieno sono riuscito ad estrarre massimo 450 Watt di picco circa da pannelli che potrebbero fare quasi il doppio. Per questo ho deciso di utilizzare le staffe che avevo fatto per il precedente progetto per inclinare i pannelli. Inclinando il primo pannello a circa 30 gradi, già la potenza generata aumenta notevolmente. Riesco ad ottenere immediatamente ben 50 Watt in più rispetto al pannello montato verticale che poi aumentano anche in questo caso durante il giorno. Montato anche il secondo pannello con le staffe, la potenza di picco si alza di parecchio e riesco a raggiungere oltre i 600 Watt di picco. Ma a questo punto sorge spontanea la domanda perché non ottengo gli 800 Watt indicati dai pannelli? La temperatura incide moltissimo e nel video dedicato ai pannelli ho fatto vedere proprio questo esperimento con tanto di termocamera. Poi molti altri fattori di degradazione, come lo sporco, riducono naturalmente la potenza generata. Inoltre anche l'MPPT non è detto che riesca sempre ad estrarre il massimo. Infatti si nota lo scalino in alcuni profili giornalieri dove si vede che il convertitore cambia tensione operativa dei pannelli passando da 11 Volt ai 30 e quindi estraendo molta più potenza. Ma il sistema non è finito qui perché si può aggiungere anche un accumulo di energia, una batteria che può fare da ammortizzatore e aumentare il beneficio di un impianto connesso alla rete. Connessa la batteria da 1 kWh con gli appositi cavi con connettore XT150 il microinverter inizierà a caricarla. Quindi il flusso di energia elettrica proveniente dai pannelli andrà sia alla batteria che alla rete elettrica. Con la app posso controllare questo flusso e decidere quanta energia va dove. Ma si può fare ancora di meglio. Con delle prese intelligenti posso gestire la potenza generata dall'inverter e fornirla alla rete di casa e agli elettrodomestici solo nel momento del bisogno. Io purtroppo a casa non ho molte prese 10-16 Shuko ma le classiche italiane. In questo caso si può usare un adattatore purché rispetti la corrente e quindi suggerisco sia da almeno 16 A. La presa la controllo direttamente dalla app e la posso attivare e disattivare. Io ci collego un essiccatore per le mele e la presa misura anche i consumi che vedo tramite la app e che superano i 600 W e grazie all'inverter do la massima potenza generata dai pannelli che va direttamente alla presa intelligente. Ed eccole qua le mele quasi pronte per poter essere mangiate. A fine essiccazione ho consumato circa 2 kWh e mezzo per un totale di quasi 7 ore. Tutta energia che proviene dal sole e quindi riduce di fatto il consumo di corrente che pago in bolletta. Ma gli esempi non finiscono qua. Ad esempio grazie all'inverter collegato direttamente alla rete in casa posso alimentare carichi collegati anche in garage. Ci collego la stampante 3D che consuma circa 400 W e che quindi mi permetterà di stampare con l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici che ho sul poggiolo di casa. In realtà una presa di questo tipo dà il massimo se collegata ad elettrodomestici di uso frequente come ad esempio il climatizzatore o anche spero che questa presa sia a prova di umidità oppure infine queste prese sono compatibili anche con i vari sistemi di automazione casalinghi come Home Assistant. In conclusione io con questo impianto in oltre un mese di utilizzo ho generato oltre 55 kWh di energia direttamente dal sole e insomma un sistema fotovoltaico di questo tipo sembra essere molto più versatile di un impianto completamente in isola proprio perché non richiede alcuna modifica all'impianto già presente. Inoltre la burocrazia è molto semplice perché richiede solo una certificazione e l'invio di un modulo al gestore di energia elettrica. A conti fatti però i tempi di ammortamento sono lunghi ma questo vale anche per gli impianti ad isola considerando il costo di batterie ed impianto fotovoltaico al giorno d'oggi. Spero che questo video vi sia stato utile ed interesse ho cercato di far vedere aspetti diversi di impianti di questo tipo e in particolare degli impianti direttamente connessi alla rete elettrica. Se vi è piaciuto come sempre vi invito a lasciare un bel like qui sotto e passare dalle pagine social come Facebook, Telegram e Instagram e di recente anche Patreon per poter sostenere le attività che svolgo qui nel mio piccolo laboratorio. E intanto un saluto, ciao! Grazie a tutti!